Dei cecchini di polizia brasiliana hanno fatto fuori quindi ucciso un uomo armato che nella mattina di ieri avrebbe sequestrato un autobus a Rio de Janeiro con decine di persone a bordo. Lo fa sapere il giornale O Globo si chiama così andando a precisare che i poliziotti avrebbero aperto il fuoco quando il sequestratore sarebbe sceso dal veicolo con la pistola puntata alla testa di una delle 16 persone che ovviamente andava a tenere in ostaggio. Una storia triste è quella che vi ho narrato in questo video di oggi, i cecchini hanno aperto il fuoco nei confronti dell'uomo facendolo fuori e ovviamente non c'è stato alcuno scampo di sorta per l'uomo in questione che è morto sul colpo, vi ricordo che c'è stata quindi la morte dell'uomo in questione. Grazie a voi utenti di Youtube il video termina qua, a volte la violenza si traduce in morte come nel caso di specie. Un saluto caro da Leandro arias da vostro imamato nell'altore italiano.